Governo e regioni sono divisi sull'applicazione del Green Pass obbligatorio per aumentare le vaccinazioni. Intanto la Farnesina avverte che a causa della variante Delta per i viaggiatori all'estero c'è da mettere in conto il rischio di finire in quarantena. Non a caso oltre 300 studenti italiani minorenni sono attualmente bloccati a Dubai e altri 15 in Grecia a causa di focolai Covid. La fondazione Gimbi ha registrato un incremento del 61% dei contagi in una sola settimana.